Questo è il nuovo COM 2014 rivoluzionato sotto tanti aspetti partendo dalla fibra di carbonio utilizzando fibra di ultimissima generazione da poco immessa sul mercato delle altre tecnologie nuovo sistema di laminazione, vale dire di costruzione e di stratificazione del telaio e nuovo concetto di scatola a movimento scatola a movimento che passa dal sistema PressFit 30 al sistema 386 che consente di allargare la battuta dei cuscinetti e tutta la superficie del carro posteriore così da avere una superficie ancora più rigida lateralmente oltre a questi concetti sono stati fatti delle modifiche anche da un punto di vista in sezione di sagome dei tubi per cui tutta la struttura monoscocca è stata dimensionata a secondo delle varie taglie aumentata in proporzione per ciascuna misura e sono stati fatti anche degli esercizi estetici per seguire un po' il coinvolgimento emotivo che ha sempre caratterizzato il prodotto quota ridotto anche il peso, ottimizzato di ulteriori 80 grammi quindi siamo a 860 grammi per un telaio in taglia M tre versioni colori dal dark grey al classico bianco rosso e un bianco e verde per creare qualcosa di emozionale